Tanti anni fa mi sono ripromessa con ogni fibra della mia anima che volevo creare una scuola unica che cambiasse la vita trasformando l'ordinario in straordinario. E come madre, come artista, attrice, scenografa, doppiatrice, docente di PNL, vocal coach ho creato la Pulsart Academy mettendo insieme professionalità, passione per l'eccellenza e la mia esperienza di oltre 25 anni lavorando a fianco di aziende, registi, università e attori esordienti. A Torino è nata una scuola fondata sull'arte e sulla recitazione, sul doppiaggio, sul cinema, sul canto, sul corpo e sulle emozioni. In un unico spazio, tantissimi corsi per far emergere i tuoi talenti. Perché scegliere Pulsart? Perché è un luogo vibrante di crescita? Perché è una squadra di professionisti che si prende cura di te, ti forma e ti inserisce nelle sue produzioni. Oltre alle parole, qui in Pulsart esistono azioni concrete e veloci. Noi colmiamo talenti, spianandoti la strada verso il successo. Se il tuo sogno è quello di cantare, ora è il momento giusto. Complimenti Roberta, sei prontissima per Sanremo all'Inte. Si lavora sulla voce con tecniche innovative, sul corpo con i più bravi preparatori atletici, sulle emozioni con tecniche di PNL coaching, sulla tua immagine con la consulente delle dive. Facendo pratiche e lavorando su un set vero, in sala di incisione, di doppiaggio, in teatro. E con i piedi per terra e il cuore verso il cielo, vogliamo farti brillare, perché l'arte è la nostra missione. E con i piedi per terra, perché l'arte è la nostra missione. Ehi eee 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 e